Tentativo di riconnessione in corso, c'è messaggerato e c'è sconnesso. Grazie a tutti. 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 Dio vi protegga sempre con il luogo per le intercessioni di Maria, la Vergine e il Padre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amén. Ma tutti voi che celebrate con fede la festa della Vergine e la Vergine e la Vergine del Rosario, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito. Amén. E la benedizione di Dio, mi potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, di scena su di voi e con voi manca sempre. Amén. La gioia del Signore sia la vostra forza, andiamo in pace. Andiamo in pace. E viva la vita. Grazie. 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 Grazie.